In Vino Civitas è sì il salone del vino, ma è anche un salone in cui si mettono in mostra le eccellenze di Salerno e del territorio campano. In questo caso non a caso abbiamo lo chef Matteo Accurso. Lo chef è una parola per me un po' grossa, io sono un umile macellaio di professione. In questo contesto, questo programma bellissimo di Vino Civitas mi sento un prescelto di essere qua attraverso il presidente Casola che ha voluto che io potessi esserci contribuendo con i nostri prodotti, soprattutto i prodotti del territorio perché noi utilizziamo solo carni del territorio. Quindi in un contesto dove si valorizza il territorio, un evento che valorizza il territorio sul nostro territorio è opportuno che ci sia anche qualcosa e noi in questo momento facciamo, se posso essere umile, la nostra parte.